Siamo di nuovo in diretta da Cracovia e siamo in diretta grazie a Diego che ci fa vedere cosa sta succedendo Diego. Eccoci. Eccolo, Diego sei in diretta. Sei in diretta. Allora, Diego sei in diretta in questo momento. Poi c'è chi è sul balcone che ci ascolta, il cappello. Qua c'è tutta la gente che sta cantando. Qua c'è chi è sul balcone. Grazie a tutti. Sono canzoni che si cantavano a Monte Cassino. Perché ricordiamo, lui è l'ultimo reduce della battaglia di Monte Cassino e nella giornata di oggi si sventolava su Monte Cassino, 76 anni fa, la bandiera polaca. Il saluto di Wojtek a tutti quelli che lo hanno ricordato oggi. C'è molta gente, i ragazzi che cantano. La bandiera professora Johnierski-Schlag. Cantano ancora un'altra canzone. Bene, se rimani lì sentiamo anche questa. Sì, sì, ci sono. C'è anche Ugo col cappello. Lo vedo e vedevo in basso qua anche la ceramica di Castellamonte che avevamo portato all'Istituto di Cultura e viene omaggiata oggi a Wojtek. Ah sì, eccolo, eccolo. Eccola qui, perfetto. Ecco qui, c'è un pezzo di cananese oggi a Cracovia nella festa che ricorda il 76esimo della conquista di Monte Cassino da parte della seconda armata polaca del generale Anders. E vediamo Ugo che canta poco però, eh. E' perché lui si aspettava di cantare in italiano, quel karaoke polacco va un po' male. Lui è contento là giù sul balcone, che purtroppo è molto malato e non riesce più a… Noi domenica, lo ricordiamo, per chi volesse andare a vedere, sul nostro sito, sul nostro pagno a Facebook, abbiamo pubblicato una lunga intervista che avevamo fatto con lui un anno e mezzo fa. Ci ha raccontato tutta la sua storia, guarda. Oh, viene qui sotto, viene qui sotto, scende, 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 per venire da noi. Bene, se riesci. Così Ugo si prepara a cantare in italiano. Bene. Ugo si prepara a cantare in diretta a Facebook. Ugo si sta mettendo d'accordo con il… Voi tec sono tanto felice. Voi tec sono tanto felice. Non a prima viene… Magari su… Magari su… Lo cerchiamo su. Lo sta venendo. Magari su… Magari su. Magari su. guarda se questo va bene forse c'è il karaoke eccolo Ugo Ugo sta facendo il riscaldamento della gola per adesso intonare in diretta con noi finisce così in onorevole carriera del direttore del studio italiano di cultura di Caracovic ma magari comincia una carriera come cantante lo mandiamo a Sanremo ciao ciao bravo spegni un attimo basta semplicemente toccare qua devo andare indietro forse adesso stiamo aspettando che arriva voi scende giù scende giù viene giù viene giù sì lo aspettiamo molto volentieri c'è la figlia sul balcone noi abbiamo varcato quella porta siamo saliti a casa sua devo dire un alloggio molto modesto ma molto ordinato pieno di ricordi è venuta anche Magda con i fiori a salutare sei in diretta Magda facebook sei in diretta saluto quella parte importante dell'Italia che ci sta purtroppo nella distanza a seguire però siete con noi ecco grazie grazie se l'era preparata una settimana questa molto bene sono parole che le vengono dal cuore sono parole che le vengono dal cuore siamo con molti italiani grazie grazie per la nostra e la vostra libertà sempre bene grazie grazie davvero oh sta arrivando sta arrivando no bandiera l'ingresso ecco l'ecco 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 la linea vicino a un tiro faccio fin di rifare il giornalista certo no fai il giornalista sei in diretta per noi quindi grazie devi per forza ecco ecco grandissimo Wojtek con la sua divisa le sue medaglie il suo cappello esatto è un po' fisicamente debilitato ma sempre con gli occhi che sorridono volte che è sempre stato è voluto scendere è voluto scendere appunto per chi è la sua figlia quella che è vicino? la figlia era quella sul balcone era una specie di badante che l'esercito vi affida per aiutarlo ogni tanto una specie di volontario dell'esercito che che lo aiuta ogni tanto se non sbaglio adesso poi chiedo a Ugo a farlo salutare perché non non riesce più tanto a parlare è stato per fare chiamare appena uscito dall'ospedale è certo tu stai saltando una recensione Diego sì 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 non sono caduto quello è regalato sì sono maggiore io maggiore del secondo corpo d'armata su me l'ha regalato ma questa è la canzone per gli auguri polacca noi tanti auguri in italiano bravo bravo tanti auguri anche dall'Italia tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a voi tanti auguri a te la torta bravo bravo il fiato non gli manca 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 sicuramente il pin devi mettere il pin eccolo non ce l'ho qua lo canti veramente Ugo? devo cantare? non lo so io te la posso mandare non per il partito di uno Gaetano aspetta è l'inconveniente della diretta partito di un'altra canzone canta Ugo canta voi te voi te sono tanto felice perché ritorno da te la mia canzone mi dice che giù per il giorno per me vuoi te vuoi te vuoi te vuoi te la mia canzone mi dice vuoi te vuoi te tu non sarai più solo quanto ti voglio bene questo calore la voce sono non tanto nel cuore e non ti lasciano più c'è anche l'acuto vuoi te vuoi te la mia canzone la mia canzone è più bella se tu sei la vita e nella vita non ti la lascio mai più bravo e beh ce l'ha fatta aveva promesso che avrebbe cantato e ha cantato l'acuto di Ugo se Ugo è in diretta si si ce l'ha fatta allora Ugo ce l'ha fatta Ugo da lì anche il regalo di Castellamonte si ecco eccolo Ugo consegna aspetta che lo inquadriamo bene ecco ecco la nostra quadra ci sono 5 anni 5 anni per darmi una piscina ci sono stai leggendo la targa stai leggendo la targa di Montecassino per non dimenticare per non dimenticare per non dimenticare bravissimo bravissimo e quindi un pezzo della della nostra storia che la ceramica è un genio bozzello da fare è un genio bozzello sì è bello è bello è bello bel regalo guarda come è contento un pezzo della nostra storia di Castellamonte si 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 è in diretta sono in diretta adesso siamo in diretta con Castellamonte abbiamo finito su facebook mentre cantavi quindi abbiamo fatto vedi questo i piroghi sono anche arrivati i piroghi i piroghi che sono tipici i piroghi sono arrivati vedi bene ci fa molto 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 piacere rivedere i piroghi i piroghi hanno scritto una canzone una canzone spegnale speciale per lui hanno preparato una canzone speciale per lui allora facciamo ancora questa canzone così almeno bravissimo anche in orizzontale al massimo si sono con l'ipad quindi non è che sia un problema eh certo ma va benissimo una canzone sul sull'orso Wojtek a monte Cassino si facevano coraggio insieme gli uomini e l'orso a monte Cassino si facevano coraggio insieme gli uomini e l'orso si facevano coraggio insieme si facevano si facevano coraggio insieme si facevano coraggio insieme il suo bravo bravissimo allora noi chiudiamo con questa bella canzone ringraziamo Diego innanzitutto che sei schizzato da una parte all'altra prima era qui con noi poi è lì ricordiamo che noi fra 40 minuti ci vediamo in diretta ancora si si tarda un attimino avete un attimino di pazienza fino dopo le due non avremo gli interventi in diretta avremo prima il raccordo avremo tutto il tempo grazie davvero ci vediamo dopo ciao 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 ciao